bene scusa toccava a me ilan allora sentiamo prima il pezzettino ok vado perché vi ho messo tutto ciò ilan l'avevo già detto l'altra volta tutto questo che cosa ti resta di me no tutto questo cantare così in realtà lo praticamente lo dimezza sia nelle risonanze che nel posto che lui c'è la parte di apparato vocale che lui utilizza invece di essere intero è tipo molto più piccolo no e quindi non è una voce libera no e cosa succede siccome non è una voce libera lui per essere più comunicativo fatto questo questa spinta questo non è solo lui è in tantissimi lo fanno sbagliando nel senso che se tu utilizzi il movimento se tu utilizzi solo il movimento per essere espressivo quando canti e non il suono non stai cantando stai ballando e anzi quello che ti fai è remarti un po contro no perché comunque idealmente il cantante dovrebbe non deve essere fermo rigido però ci sono dei movimenti che aiutano al cantante e dei movimenti che remano contro il cantante quindi prima di tutto bisognerebbe capire studiare quali sono i movimenti che ti aiutano poi togliere quelli che non ti aiutano e da lì costruire perché una volta che tu c'è la padronanza del tuo strumento ti puoi appendere come abbiamo detto in altri live come pink ok dal cavo e a testa in giù e cantare perfettamente lo stesso ma devi aver fatto un lavoro prima invece se lo fai come lo fa ilan che è praticamente isolato solo una parte della sua voce e cosa fa gira per lo studio e fa tutti questi movimenti e così la noemi gli dice proprio che di malinconia o di dramma o di rabbia è poco studiata che faccio un film nella mia testa quando canto una canzone no questo ti dà l'intimità del pezzo cioè non parti da fuori cioè tu sbagli e su questo ragazzi vorrei farmi un attimo di pubblicità perché è uscito il mio corso di canto e parla tantissimo parla il mio corso di canto parla tantissimo di questo fattore di come ancorarsi al proprio sentire alla propria anima i propri ricordi al proprio immaginazione alla propria persona per poi deliver dare il messaggio tu non puoi partire dal movimento che fai o dalle parole della canzone pensando che basti spiaccicarle lanciarle addosso alla gente credendo che questo emozionerà tu non emozionerai quasi nessuno se non senti qualcosa dentro di te se non riesci ad agganciare ok la tua voce a quella specie di amo che sta dentro di te e che tira fuori anche l'anima non solo la voce e lui fa questo errore qua ed è molto palese il rischio qual è che canti tutte le canzoni essendo troppo è sempre uguale perché diventa un metodo no diventa un metodo che lui utilizza credendo di comunicare certo ok però se noi guardiamo c'è non lo so vi faccio un esempio no e appunto perché tiro fuori il corso perché nel corso ci sono tanti di questi esempi quando io sono arrabbiata con qualcuno non sempre reagisco allo stesso modo perché dipende del perché sono arrabbiato che cosa mi ha fatto quell'altra persona che cosa voglio comunicare qual è il mio carattere e qual è il momento della giornata qual è la gravità del fatto ci sono delle cose che sì cioè ci sono delle cose che ti fanno arrabbiare scoppi ci sono delle cose che magari ti fanno arrabbiare ti feriscono e la tua reazione è abbassare il tono della voce e essere molto più stabile e molto più diretto o se vuoi essere autoritario abbasserai la tonalità cantare tutto così verso fuori non vuol dire essere espressivi vuol dire cercare un modo di impressionare e invece secondo me è sintomo delle persone che sono chiuse i timidi possono avere questo problema e secondo me lui forse è un po' timido e quindi fa di più per riempire no il vuoto mentre un un nicolò ad esempio utilizza la sua voce è vero che nella canzone che abbiamo sentito non ho visto una grande espressività però te sfido ok ecco però non ha bisogno di questi mezzi per per essere perché i movimenti non sono naturali un certo se non si vede purtroppo tutta la parte in cui lui salta per lo studio gira fabbrica ho messo solo questo perché questo strappato sportivo comunque niente di ecco si si tira guarda come si tira la camicia che cosa guardate io più faccio questa cosa con la lea più capisco che il canto e la danza in realtà sono le stesse cose